La filosofia morale La filosofia morale E che invece è così nel cuore dell'esperienza di tutti Che è in fondo la filosofia Il compito del filosofo La prima testimonianza la prendo da Friedrich Nietzsche Filosofo famosissimo Che ha avuto una popolarità E ha tuttora una popolarità Che va molto al di là dell'orizzonte specialistico Degli studi della filosofia E in particolare di Nietzsche Io citerò un passo della Gaia Scienza Una delle sue opere più significative Siamo nella parte finale Dell'Ottocento Nietzsche è considerato il grande profeta Del Novecento Morirà nel Novecento come si sa Avvolto nelle tenebre della follia Ma nella Gaia Scienza La follia era ancora molto lontana E siamo di fronte alla testimonianza Di uno dei pensieri più lucidi Più forti Più lungimiranti Che cosa si dice in questo brano? I moderni Il mondo moderno Noi copernicani Abbiamo cominciato a familiarizzarci Con l'idea dell'infinito Ma badate abbiamo solo cominciato Pochi secoli Come sono quelli che ci dividono da Copernico Sono poca cosa nell'esperienza dell'umanità Ma siamo davvero in grado Di sopportare l'idea Che il mondo sia infinito? Siamo davvero in grado Di sopportare l'idea Che la terra Sia una piccola formazione dell'universo Il filosofo Ha abbandonato la terra Col pensiero E' andato al di là della terra E a questo punto dice Nietzsche è guai Se gli viene la nostalgia della terra Deve imparare a familiarizzarsi Col pensiero Che la verità è al di là di questa terra E in tutte le comunità razionali possibili Diceva Peirce E ma per pensare questo Allora il filosofo Ecco il suo compito E' un navigatore E' appunto come Cristoforo Colombo Diceva Bruno In pagine celebri E' come il grande Copernico Il filosofo è colui Che deve sempre di nuovo Prendere piede sulla nave Salpare Abbiamo lasciato la terra E ci siamo imbarcati sulla nave Abbiamo tagliato i punti alle nostre spalle E non è tutto Abbiamo tagliato anche la terra dietro di noi Ebbene navicella Guardati innanzi Ai tuoi fianchi Muggia l'oceano infinito E non c'è niente di più spaventoso dell'infinito Guai se ti coglie la nostalgia della terra Come se là ci fosse stata più libertà E non esiste più terra alcuna Ma c'è ancora un altro mondo da scoprire E' più di uno Via Sulla nave Filosofi Via sulle navi quindi Ma via sulle navi perché? Cioè questo compito del filosofo E' un compito unicamente come dire Conoscitivo E' mosso soltanto dalla volontà di conoscenza Anzi dalla superbia Quella superbia che secondo la tradizione biblica Avrebbe perduto Adamo ed Eva naturalmente insieme Cioè la pretesa di mangiare il frutto della conoscenza E di essere quindi uguali a Dio E questa diciamo spropositata pretesa Quella che mette i filosofi sempre sul punto di salpare sulla nave No ecco correggiamo questa idea Con un brano di Husser L'abbiamo già incontrato questo filosofo Quella da un brano tratto da quella che è stata la sua ultima opera La crisi delle scienze europee E la fenomenologia trascendentale Rimasta incompiuta appunto per la sua morte Un brano nel quale Husser chiarisce Come il compito del filosofo Non sia un compito di Assurda, assoluta volontà di verità Chiamiamola così Ma sia qualche cosa che coinvolge tutti In qualche misura siamo tutti invitati a salire sulla nave di cui parlava Nietzsche Siamo tutti invitati a salire sull'arca di Noè Nella nostra esperienza Tutti quanti insieme perché Tutti quanti insieme nella ricerca dei confini dell'universo E del senso della verità dell'esistenza Tutti insieme Evochiamo un destino comune E allora Husser in questa pagina Usa un'espressione che è diventata celebre E che mi sembra così caratteristica Dice dei filosofi Che sono i funzionari dell'umanità Questa è una frase bellissima Un'espressione bellissima Il filosofo è il funzionario dell'umanità Cosa vuol dire? Ma vuol dire anzitutto Che non è sottomesso a nessuna autorità Istituzionale particolare Ha appunto una universalità Che abbraccia Quanto meno tutta la terra Tutta l'umanità Il filosofo parla per tutta l'umanità Non parla in nome di una istituzione definita Di una patria definita Parla della patria comune Parla, dirà Husser Del vero essere dell'umanità Cioè parla della possibilità Che l'umanità Possa costruire qualche cosa Di razionalmente comune Una abitazione Una navicella comune Nella quale navigare nell'infinito Ed altronde Che cos'è la nostra terra Se non una navicella Che naviga nell'infinito Ecco, noi dovremmo costruire Come funzionari dell'umanità Funzionari del bene di tutti E della verità di tutti Un luogo abitabile Ma siamo in grado di farlo? Ecco la domanda Con la quale si conclude Il brano di Husser Siamo capaci di farlo? È possibile farlo? È possibile che la filosofia A questa funzione Risponda con una Con una risposta positiva Noi siamo dunque Nel nostro filosofare Come potremmo dimenticarlo Funzionari dell'umanità La nostra responsabilità personale Per il nostro vero essere di filosofi Include anche la responsabilità Per il vero essere dell'umanità Questo è tale Solo se può essere orientato Verso un fine razionale Fine che può essere raggiunto Solo se può essere realizzato Attraverso la filosofia Possiamo sfuggire a questo Se E se non è possibile Cosa dobbiamo fare Per poter credere Noi che già crediamo Noi che non possiamo continuare Seriamente il nostro filosofare Se esso ci dà a sperare Solo filosofie effimere E non una filosofia Husserl suscita Immediatamente una domanda Una domanda Che ci richiama Ad un brano di Hegel Che avevamo ascoltato Nella trasmissione precedente La filosofia è tante filosofie Però qui Husserl ha dei dubbi Dice ma che cosa possiamo sperare Se andremo avanti A costruire tante filosofie Ma mai quella filosofia Che ci gratifichi Che ci consolidi Nell'idea di essere funzionari Dell'umanità Ecco qui Husserl Legge una crisi Del nostro tempo Quella crisi che ancora Hegel non percepiva Una crisi della tradizione europea Della tradizione occidentale Del razionalismo europeo Una crisi della ragione europea Che ha attraversato Tutto il novecento E in un altro brano appunto Della crisi delle scienze europee Husserl si interroga Sul destino Della filosofia E dell'umanità europea Probabilmente la verità Che l'Europa ha detto Attraverso la sua filosofia Attraverso la sua religione Attraverso la sua grande tradizione Non può pretendere Di essere diciamo così La verità dell'intera terra Può essere diciamo Una strada Una via Una possibilità L'Europa è a rischio Di decadenza È a rischio Di caduta Addirittura dice Husserl Di caduta Nella barbarie Non dimentichiamo Che queste pagine Husserl le scrive Quando il nazismo È appena arrivato al potere E quindi prevede Presente La tragedia Della seconda guerra mondiale La distruzione dell'Europa Per opera di se stessa Per opera della Sua follia Della sua irrazionalità Ecco Il sogno è quello però Di una rinascita Il sogno del fatto Che quel funzionario Dell'umanità Che è il filosofo Possa recuperare La fede nella ragione Possa recuperare La fede nella ricerca Possa recuperare Insomma Il senso Del suo passato Ma Allo scopo Di renderlo utile Per l'umanità Futura tutta intera Funzionario Dell'umanità Non funzionario Dell'Europa Non funzionario Del cristianesimo Soltanto Funzionario Di un'idea universale Che è nell'Europa Che è nella filosofia Che è nel cristianesimo Ma di cui Possiamo avere Come dire Certezza Solo se Essa Questa idea Darà vita A conseguenze Prattiche Conformi Cioè Ad un'umanità Razionale Ad un'umanità Giusta Ad un'umanità Pacifica Pacifica E quindi A un futuro In cui L'immortalità Dello spirito Trovi Celebrazione E realizzazione Nelle istituzioni Della vita Di tutti Questo E' il sogno Di Husserl Alla fine Della sua Vita Quando appunto Diceva L'abbiamo letto Qualche incontro Fa Ecco Ora ho un piccolo Inizio Nelle mani Dovrei cominciare Da capo La crisi Dell'esistenza Europea Ha solo Due sbocchi Il tramonto Dell'Europa Nell'abbandono Del senso Razionale Della vita La caduta Nella barbarie Oppure La rinascita Dell'Europa Dallo spirito Della filosofia Attraverso Un eroismo Della ragione Allora Dall'incendio Distruttore Per la missione Dell'Occidente Dalla cenere Della grande Stanchezza Rinascerà La finice Di una nuova Interiorità Di vita Il primo annuncio D'un grande E remoto Futuro Dell'umanità Perché soltanto Lo spirito È immortale Sono Carlos Sini E stiamo Insieme Leggendo Alcune testimonianze Di grandi filosofi Nell'ambito Di questi incontri Di Damasco Per Per dare conto Di una vocazione Nel mio caso Filosofico Di che cosa Significa Dedicare La propria vita La propria vita Professionale Quanto meno Alla ricerca Filosofica Abbiamo sentito Alcune voci Alcune testimonianze Relativamente Al compito Del filosofo Che è il tema Che ci siamo dati Per questa puntata E ora Passeremo a due testimonianze Di un altro Grande filosofo Del novecento Che è Maurice Merleau-Ponty Francese Appartenente Alla corrente Della fenomenologia Quindi Ideale Discepolo Di Husserl Come d'altronde Il suo amico Sartre Ecco Merleau-Ponty In due brani Di un celebre testo Che è l'elogio Della filosofia Ci aiuta A capire Sempre meglio Quello che è l'abito filosofico O meglio Il compito Del filosofo L'aspetto morale Della filosofia Dicevo All'inizio Di questo nostro incontro L'aspetto morale Della filosofia E l'aspetto politico Quindi Della filosofia Chi è il filosofo Questo funzionario Dell'umanità In mezzo Agli altri esseri umani L'elogio della filosofia È un testo celebre Che Merleau-Ponty Appunto Pronunciò Quando venne Accolto Nel Collège De France E qui Sostanzialmente Disegna il filosofo Anzitutto Come colui Che non è mai Schiavo del potere Anzi È il contrario Dell'uomo di potere È l'uomo della verità È funzionario Dell'umanità Perché vuole Una verità razionale Che sia comune A tutti E non sorretta Dalla forza Delle armi O dalla forza Dell'autorità Della tradizione E proprio perché Questo Il filosofo Si intende poco Da sempre Da Socrate In poi Potremmo dire Il filosofo Si intende poco Con la politica Non perché Sfuga la politica O perché In qualche modo Evada dalla politica O sia contro La politica No proprio Per la verità Della politica Perché Incarna un'altra Verità della politica Una verità Che non è Una verità Dialettica Di scontro Dice I manichei Che si scontrano Fra di loro Si intendono benissimo Anche perché Gli uni sono la ragione Degli altri Mentre il filosofo Non si intende Né con gli amici Né con i nemici E proprio perciò Dice Merleau-Ponty Con una frase Memorabile La maniera Di essere fedele Ad una tesi politica Nel filosofo Dà sempre l'idea Che potrebbe Da un momento All'altro Tradire E già Perché il filosofo È amico della verità Non è amico Di questo O di quello E allora Quando la verità Viene abbandonata Nella lotta E nella contesa Il filosofo Deve Poter fare parte Per se stesso Deve Allontanarsi Dalla politica Per la verità Della politica Il linguaggio Del filosofo Esattamente Il contrario Del linguaggio Del potere I manichei Che si scontrano Nell'azione Si intendono Meglio Tra loro Che non Con il filosofo Tra loro Vi è Una complicità Perché ognuno È la ragion D'essere Dell'altro In questa mischia Fraterna Il filosofo Si sente Un estraneo Si avverte Dal suo modo Di essere fedele Che potrebbe Tradire Egli non Partecipa Come gli altri E al suo Ascenso Manca qualcosa Di solido Il filosofo Non è completamente Un essere Reale L'ultimo brano L'ultimo brano di questa sera Ancora di Maurice Merleau Ponty Sempre dall'elogio Della filosofia Direi Dà l'ultimo tocco Alla nostra breve Ricerca Il nostro breve percorso Su quello che è il compito Del filosofo Abbiamo sentito Poco fa Che il filosofo Non è uomo di potere Che il suo discorso Non è un discorso Di violenza Non è un discorso Di sopraffazione E quindi In questo senso È un essere Che sta nel mondo Nel mondo Della politica Attiva e concreta Ma anche fuori del mondo E dice il filosofo Abbiamo ascoltato Non è completamente Un essere reale Cioè non appartiene Alle passioni Di tutti Con tutto il suo corpo Diciamo E con tutta la sua anima Vuol dire che è un uomo astratto No Ecco questo brano successivo È molto utile Per comprendere Che il filosofo Sa benissimo Di non essere fuori Della storia Di non essere fuori Del suo tempo Di camminare Per la stessa strada Dove camminano tutti Legato ai vincoli Della comune Umanità E della comune Vicenda storica Ma nonostante ciò Ecco il filosofo Ha una funzione particolare Ha una vocazione particolare Non è suo merito È stato Come dire Delle volte È un destino Che subisce Più che scegliere È qualche cosa Che gli capita Di incontrare Di essere Anche involontariamente Il funzionario Di una verità Che è al di là Della Immediata Esperienza Di tutti Per una ragione Molto semplice Che è la ragione stessa Della filosofia L'abbiamo più volte evocata La capacità di meravigliarsi Il filosofo si meraviglia Gli altri si dimenticano Spesso Tutti ci meravigliamo Il filosofo qui Incarna un'esperienza Che per carità È universale Però diciamo Però diciamo che in lui È più presente Più potente Più straniante Che in altri La capacità di meravigliarsi Di ciò che è Di ciò che c'è Di come siamo Di guardarsi intorno Con sguardo stupito E allora è come se Il filosofo si risvegliasse Da questo sogno Che è la vita quotidiana Che ci abbacina Diciamo così Che ci affascina Che ci conduce Per mano Ma anche ci acceca Il filosofo si risveglia Allo stupore All'enigma Al dubbio Alla domanda E questo suo risvegliarsi Mostra però Che le domande Che da questo risveglio Sgorgano spontanee Non sono le domande Del filosofo Sono le domande Di tutti gli esseri umani Tutti gli umani Hanno nel loro cuore Le domande A cui il filosofo Dà voce E per il quale Dando voce Ed essendo in questo senso Funzionario di tutti Funzione di tutti Può sembrare un po' Diciamo Fuori del mondo Un po' strano In realtà Egli frequenta Il limite del mondo Perché d'altronde L'essere umano È appunto Un essere al limite Alla fine Di una riflessione Che all'inizio Lo tiene in disparte Ma solo per fargli Apprezzare meglio I vincoli di verità Che lo legano Al mondo E alla storia Il filosofo Non trova L'abisso dell'io O del sapere assoluto Ma l'immagine Rinnovata del mondo È se stesso Ben piantato in esso Insieme agli altri Il filosofo È l'uomo Che si risveglia Che parla E l'uomo Ha in sé Silenziosamente I paradossi Della filosofia Perché per essere Davvero uomo Bisogna essere Un po' più E un po' meno Che uomo Abbiamo concluso Questo piccolo periplo Dalla nave del filosofo Diciamo così Al risvegliarsi Dell'uomo Scoprendosi Un po' più E un po' meno Che uomo Come abbiamo sentito Qualcosa di mezzo Tra l'angelo E la bestia Diceva La filosofia Del rinascimento italiano Picco della mirandola L'essere umano È a metà strada Tra l'angelo E la bestia E l'animale E in questo senso Abbiamo compreso La caratteristica Funzione Del filosofo Il compito Morale Particolare Deve frequentare Gli abissi Per poter guardare Anche Il cielo Per poter guardare Anche in alto